Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monospor 07, siamo qui con le paggele di Juventus-Lazio 3-1 Partita che ha visto la Juventus per la seconda volta consecutiva a vincere in campionato Partita che ha visto la Juventus per la terza volta nelle ultime quattro partite segnare ben tre reti agli avversari Partita che ha visto la Juventus accorciare momentaneamente il distacco su Milano e Inter in attesa di cosa farà il Milano oggi, poi dipende da quando vedete il video In attesa di cosa farà l'Inter è domani, io pronostico una vittoria del Milano su Verona e un pareggio dell'Inter Vabbè, tanto questo video uscirà prima di tutte le partite almeno penso Detto questo non perdiamoci in chiacchiere, ringrazio Antonio per le clip e noi partiamo subito col video, vamo ragazzi Come sempre partiamo da Tech, voi Jack Czesny che si porta a casa un 6 sul gol Secondo me non può nulla, sbagliate l'angolo su cui tuffarsi ma comunque è un errore che ci sta Secondo me le colpe maggiori, questo dico all'ABC, le colpe maggiori nel gol ce le hanno Kupu Luiseski e De Miral ragazzi Anche perché se non si tuffava lui poteva poggiarla comodamente sul secondo palo con Rea Quindi insomma il 6 ci sta perché per il resto della partita lui c'è, risponde presente Forse ho qualcosa da ridire su quella traversa di Milinkovic-Savic dove magari poteva farsi trovare un po' più pronto Nel senso che uno può dire se non prendeva la traversa la parava a Czesny, no ragazzi Se non prendeva la traversa quella palla andava dentro 5 e mezzo per De Miral, poco fa citato, ragazzi De Miral continua a piacermi sempre di meno Secondo me la Juve può fare solo la riserva Lui fa bene in quelle partite tipo come Crotone, Spezia, Benevento, quelle partite lì Ma quando c'è un big match lui molto spesso tende a non fare... Cioè ragazzi non è quel giocatore che ti va a fare il salto di qualità Almeno secondo me il modo di vedere ragazzi, non lo so Io De Miral lo vedo così, poi lo adoro Ha un carattere veramente molto bello e tutto coso Però ragazzi De Miral ieri secondo me sul gol di Correa Un difensore che può essere tuttora la Juve doveva farsi trovare pronto 6 e mezzo per Alexandro Si trova sempre più a suo agio nella posizione di difensore centrale Piuttosto che di quella di terzino e sinistro Pirlo che ha capito che Alexandro era a 3 anni che faceva cagare Bernardeschi 2 anni che faceva cagare E quindi ha detto Bah Bernardeschi lo metto terzino e Alexandro in difensore centrale Così magari gli cambia ruolo e vediamo un po' cosa mi combinano questi Effettivamente è andata bene a tutte e due Diciamo che si stanno trovando a loro agio nella loro posizione dotata ieri Bene a Alexandro che si porta a casa il suo 6 e mezzo Comunque una bella partita da parte del brasiliano 6 e mezzo anche per Juan Guillermo Quadrado Allora se giocasse esterno perché in fase di difensiva io lo dico sempre Quadrado se devi giocarti un match molto molto importante Non parlo di quello col porto Parlo di avversari che hanno una fase offensiva molto forte Oppure di avversari che hanno estero offensivi molto forti Quadrado non ti può fare il terzino Almeno secondo il mio modo di rivedere Quindi se fosse se avesse giocato esterno L'ha avversari anche 7 e mezzo Perché con Quadrado la Juve diventa tutta un'altra cosa Riesce a impostare a verticalizzare A fare finte quando deve fare finte Quindi ragazzi il giocatore è fenomenale Ripeto se giocasse terzino l'ha avversari anche 7 e mezzo Se giocasse esterno Per quanto riguarda Danilo che ieri ha giocato molto da mediano Ha giocato più da mediano che da difensivo centrale o terzino destro Dove gioca spesso ragazzi Si porta a casa un 7 Perché in una sola partita da mediano Dimostra di essere superiore a Bentancur Non ad Arthur Non ad Arthur Ma a Bentancur si ragazzi Da mediano Danilo non fa danni Coprì ogni tanto anche i bocchi che facevano in difesa Però Danilo quest'anno dove lo metti lo metti Il suo 7 6 e mezzo 6 a casa se lo porta Sempre Ogni volta ragazzi Un giocatore veramente spaziale quest'anno Che sembra E' dotato di un carisma incredibile 6 e mezzo per Bernardeschi Molto bene Sono due partite di fila che le fa bene ragazzi Sembrava essersi un po' perso nelle ultime uscite Però Ha fatto due partite di fila buone Doppio assist con Lo Spezia Doppio Cioè Do doppio Cioè niente Ieri non ha fatto un doppio di niente Però ieri ha giocato bene Da Terzino Bene in fase offensiva Bene in fase difensiva Ha fatto comunque una buona partita Il suo 6 e mezzo comunque Riesce a portarlo In curriculum Diciamo così 6 e mezzo anche per Rabiot Ragazzi si ha fatto il gol Ma non è che uno come dice Allegri Fa gol non fa gol Quindi Dobbiamo dargli qualche voto in più A seconda che uno fa gol o no Uno si becca il 5 O l'8 Per me Cambia solo di mezzo voto Non avesse fatto il gol L'abbia dato 6 Con il gol diventa 6 e mezzo Perché lui ha dei colpi È molto discontinuo ragazzi Lui quei colpi A buon talento Quei colpi a buon talento Ce li ha Ma posso fare il video E badare anche Spendere la sveglia ragazzi Ce ne Non si può Non si può Però ragazzi Una sveglia servirebbe a rabbio Perché se giocassi così Tutte le partite Avremmo scoperto un bel centrocampista Che può giocare titolare Al fianco di Arthur e McKennie Secondo me Anche Ramsey Ramsey ha dato buone prove Perché ragazzi Purtroppo Ramsey e Rabiot La loro pecca è che siano discontinui Ecco perché possono fare solo le riserve In questa Juventus ragazzi Quella di essere discontinui Come non mai Andando ad analizzare Quel che è stata la partita di ieri Ramsey ha giocato qualche spezzone Anche più Forse da mezzala Che magari trequartista Barra esterno e sinistro Come va al solito Però veramente Ho visto un buon Aaron Ramsey ieri Comunque un buon sei e mezzo A casa se lo porta Si è anche procurato il rigore Mi è piaciuto molto Nella costruzione delle azioni Cinque e mezzo per Kulusevski Non gli voglio dare cinque Quattro Quattro e mezzo Come stanno facendo magari Un po' tutti Ricordiamoci che il Kulu Gioca fuori ruolo E che comunque Cinque gol e tre assist All'inizio dell'anno Gli ha fatti Se dovevo analizzare La partita di ieri Cinque e mezzo Perché uno che mi fa la seconda punta Mi fa quegli errori lì Di merda in difesa E in attacco Non combina niente Comunque Avrei dovuto dare anche cinque Però dai Come al solito Do il mezzo voto di bonus Oppure il mezzo voto in meno Di solito Do questo mezzo voto bonus Oppure di malus E stavo altro lato in bonus Perché veramente Non si merita Tutte quelle critiche Kulusevski Men of match Come sempre Federico Chiesa ragazzi Federico Chiesa Tra l'altro Pirlo doveva scegliere Se rendere Chiesa esterno E culo attaccante Oppure di invertirli Nel caso Li dovesse invertire Kulusevski gioca meglio A destra che a sinistra Mentre Chiesa Anche lui gioca meglio A destra che a sinistra Però ragazzi Ovunque va Fa il devasto Chiesa Ovunque va Cazzo E' un giocatore Veramente incredibile Man of the match Anche se lui ha fatto Salamente un assist E Morato due golli Un assist Ricordiamoci che Chiesa Ha fatto la giocata Decisiva della partita Quel palone recuperato Con l'assist Successimo Morato È stata la giocata Della partita E la sua grinta È quella che si rivita La Juve per il gol del 2-1 Ieri non l'ha decisa Morata Morata è stato straordinario Ma l'ha decisa Federico Chiesa Man of the match Il giovanissimo italiano Miglior prospetto Secondo me Attualmente Italiano più di barella Ragazzi Ok Ditemi che sono Juventino Ma più di barella Più di barella Cazzo Sette e mezzo invece Per Alvaro Morata Che comunque Un ottimo voto Lo porta a casa Due golli Un assist ragazzi Dall'inizio dell'anno 16 golli 10 assist Un impatto veramente Importantissimo Molto spesso è stato infortunato Che le prime due gare Non le ha giocate Quindi veramente Veramente bene Lo spagnolo Ormai 27enne ragazzi Tra poco mi sa Addirittura 28enne Lui è del 92 Però è dello stesso mese Di Di Bala Quindi insomma È appena un anno più giovane Di Di Bala E questa non sta giocando meglio Anche perché ha giocato Il dopo delle partite di Di Bala Ma veramente Partita straordinaria Ieri di Morata Con lui in campo Un'altra cosa Sette e mezzo per Pillo Non era facile Stimulare questa gara Non era facile Perché comunque La Juventus Negli scorsi Big match Negli scorsi sette big match Ne aveva vinti solamente due Quelli con Milan e Roma Per il resto Pareggio con Lazio Roma-Atalanta E sconfitte contro Inter e Napoli Doveva vincere Doveva mettere in campo Tanta tanta grinta Doveva inventarsi qualcosa Perché aveva tutti infortunati 3-1 alla Lazio Schapu per Pirlo Che veramente ieri Non andava criticato Ha avuto il coraggio Di mettere l'Alexandro centrale Danilo Mediano Bernardeschi Terzino Ha fatto di tutto e di più Bravo Pirlo Sette e mezzo Brattato a casa Anche se nel man of the match Di ieri È stato Federico Chiesa Detto questo ragazzi Il video termina qui Spero che il video vi sia piaciuto Se ti è piaciuto Rimita a lasciare un mi piace Caso di contrarre Non vi sia like Comenta se siete d'accordo Se siete d'accordo con me Se non l'ho ancora fatto Iscrivetevi al canale In descrizione il link Per il sicuro Mi sono su Instagram Da Monosport 07 È tutto E noi ci vediamo In un prossimo video Bella ragazzi In un prossimo video In un prossimo video In un prossimo video